Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi voglio proporvi la tecnica delle figure della frusta romagnola, ma non letta in un libro, bensì direttamente dal mio braccio. Chiedo perdono per la location, ma la quarantena offre solo questo. Prima di tutto potreste spolliciare qui, perlomeno per il tempo che ho impiegato, anche perché si sa che a chi non mette mi piace, gli si formano i nodi nel ciocchino. Quindi sfondate il tasto del mi piace e scrivetevi al canale. Se ci sarà un buon riscontro, a proposito fatemi sapere qui giù nei commenti, seguiranno altri video delle figure della frusta. Iniziamo quindi con la figura 1, la stesa. Va eseguita in diagonale, circa 45 gradi, dal punto di massima estensione fino a sotto la spalla opposta. E i ciocchi sempre lontani dal corpo. La figura 2 è il correttore. Questo movimento da eseguire sulla diagonale della stesa prevede un giro subito dopo il primo ciocco della stesa e uno subito dopo il secondo ciocco. Per informazioni più tecniche sulle figure, sulla frusta o in generale su questo settore, scrivete appunto nei commenti o contattatemi tramite l'email che lascerò qui sotto in descrizione.